Cos'è la vitamina D? Dove si trova? È vero che si trova solo nei derivati animali? Allora, andiamo per gradi. In realtà la vitamina D non è propriamente una vitamina D, ma è un ormone, un pro-ormone ad essere precisi. Difatti la vitamina che noi solitamente troviamo nei cibi, infatti il nostro corpo non produce vitamine, ma le assimila tramite l'alimentazione, gli ormoni li produce il nostro corpo e la vitamina D per la maggiore viene prodotta proprio dal nostro corpo in esposizione al sole. La vitamina D è essenziale per tantissime funzioni del nostro corpo, per la salute delle nostre ossa, per la salute dei nostri denti, per tutto il nostro apparato metabolico, endocrino e anche neuronale, per tutto il sistema nervoso e in sostanza il deficit di vitamina D è correlato con qualsiasi deficit che potremmo avere con il nostro corpo, perché è veramente una vitamina essenziale. È quindi fondamentale esporre il nostro corpo al sole per almeno 20 minuti al giorno, il più scoperti possibile, per assimilare la quantità ideale per il nostro corpo e per il nostro fototipo. Difatti ogni persona ha un fototipo differente. Il fototipo è l'insieme delle nostre caratteristiche di colore della pelle, di colore degli occhi, di colore dei capelli e tutto questo ci classifica in un certo tipo di fototipo. Se non ci esponiamo abbastanza, le nostre scorte di vitamina D che facciamo quando noi ci esponiamo al sole si abbassano notevolmente ed è per questo che d'inverno solitamente ci ammalliamo molto spesso, perché non abbiamo abbastanza vitamina D a proteggerci. Molto spesso quando siamo carenti di vitamina D ci viene consigliato di integrare con supplementi di origine animale, come per esempio il celeberrimo olio di fegato di merluzzo. È però interessante specificare che tutti i derivati di origine animale contengono vitamina D se e solo se sono stati esposti regolarmente al sole, quindi proprio come noi. Noi come tutti gli animali produciamo vitamina D, quindi quando l'animale è esposto al sole la produce anch'esso. È poco probabile però che quelli che troviamo negli integratori siano animali cresciuti all'aperto o in natura. Molto molto spesso sono animali tutti da allevamento che purtroppo il sole non l'hanno mai visto. Quindi quando introduciamo una vitamina D da supplemento bisogna anche immaginare che allo stesso animale è stato dato quel supplemento di vitamina D per averla. Questo succede negli allevamenti ittici come in tutti gli allevamenti intensivi, dove agli animali viene somministrata una certa quantità di vitamine, integratori, ormoni per crescere e per ammalarsi di meno date le condizioni precarie della loro vita. La vitamina D infatti se non prodotta dal nostro corpo è molto difficile che la troviamo nella nostra alimentazione animale onnivora o crudista o vegetariana o vegana che sia. È altresì molto importante però avere un'alimentazione che aiuti l'assorbimento di questa vitamina, ricchissimo quindi di ricca di sali minerali e di micronutrienti e molti antiossidanti. Difatti i micronutrienti che possiamo trovare soprattutto nell'alimentazione crudista ci aiutano come fattore antiossidante nell'esposizione al sole che di fatti crea dei radicali liberi. È comunque molto importante verificare se noi siamo di base insufficienti o carenti di vitamina D nel nostro corpo perché potrebbe non essere sufficiente un'esposizione al sole graduata oppure certi tipi di accortezze alimentari. Può essere di fatti necessaria anche un'integrazione a seconda della persona e della situazione in cui è. Per assorbire comunque al meglio la vitamina D è importante ricordare che è una vitamina lipossolubile. Quindi si assorbe molto di più se nell'esposizione al sole o quando la integriamo tramite integratore ci cibiamo anche di qualche alimento con i grassi. Possono essere dei grassi semplici, possono essere frutta secca, semi oleosi o anche degli oli spremuti a freddo che aiutano di molto l'assorbimento comunque di questa vitamina. È importantissimo chiaramente stare all'aria aperta più possibile, è importante idratarsi, programmare l'esposizione al sole di modo che non sia solo focalizzata su due o tre settimane all'anno. Meglio esporsi poco ma spesso lungo tutto il corso dell'anno. È altresì importante cercare di evitare delle creme solari, chimiche a base di ingredienti tossici per il nostro organismo e che bloccano l'assorbimento della vitamina D. L'inquinamento atmosferico infine assorbe molti dei raggi UVB e quindi rende quasi impossibile l'assorbimento di vitamina D nel nostro corpo. Quindi è molto 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 consigliato di stare in natura il più possibile sia per l'assorbimento ideale della vitamina D, sia per un nostro equilibrio psicofisico. Se si dovesse decidere quindi di integrare questa vitamina tramite integratore per insufficienza o carenza vitaminica o perché non si riesce a stare abbastanza esposti al sole, è importante confrontarsi con uno specialista del settore medico e di vedere quale concentrazione di integrazione è la più adatta alla carenza che si ha. Ricordate al vostro specialista di fiducia, se mai non lo sapesse, che esistono anche integrazioni di vitamina D naturali e a fonti vegetali.